Se dico o pronuncio il nome dell'arma, il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo Accettate, da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso The Agency per tentare la sfida di oggi Che se dico il nome delle armi il video finisce Insomma non devo dire il nome delle armi, dovrò inventarmene dei nuovi sul momento Il tipo ancora insiste, no qua io non ho capito Guarda ragazzi quando fai i duo fill è sempre la stessa storia, mamma mia Oh cavolo sono accerchiato Uh bello Scusami bro, te levi? Grazie Ora il mio compagno muore pure Aspettate che lo devo andare ad aiutare Cerco di andare io da una mano regà Bella GG Ok perfetto, non sembra male però Già che riuscino Uuuu Vabbè raga, a parte che mi ha battuto Midas quindi è stato abbastanza cringe Però vabbè gestire lo Midas è sempre un casino Ci siamo presi Un po' di armi ce l'abbiamo E questa per ora la chiamiamo fragola L'unica arma che abbiamo la chiamiamo fragola Quest'altra carota Così, oh 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 Bro, dovresti aprire? Eh ok è aperto Bella Eh abbiamo un nemico dietro, si Ok quindi abbiamo fragola e carota per ora Mamma mia come le ho smirate queste cose No bro apri Che le mazzate le sto pia solo io? Cioè le mazzate le pio solo io è incredibile Dai one shot bro Dai Easy Sto qui Body block Ok È stato abbastanza cringe farsi abbattere anche in questo caso Però shalla ragazzi Diciamo che mi devo un attimo concentrare Prima partita del giorno è di domenica mattina Cioè non sto a capire nulla praticamente Comunque Allora ragazzi Diciamo che la prima arma la chiameremo limone La seconda fragola a terza carota Abbiamo limone, fragola e carota Insomma ci possiamo fare un bel pranzetto salutare Eh si man aspetta arrivo Mi serve un secondino Sì sta arrivando altra gente eh ragazzi Faccio pure questa pozza grande Oh 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 no 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 Uh L'ho clacciata io stavolta Bella Se la clacciamo una io e uno all'alleato Secondo me ce la possiamo fare Sta andando bene GG GG Servono munizioni però della fragola Altrimenti io qui non vado avanti Sono messo malissima Pratico ci serve vita in generale Sto lasciando che ci serve tutto Bende Mamma mia Che bello Avevo paura perché non potevo dire bende Invece potevo dirlo effettivamente Eh comunque Eh no niente Vabbè Uh è uscito lo spara bende Non me ne ero accorto Ok Vabbè ragazzi ovviamente tutte le cure Non sono contate come armi Quindi posso tranquillamente chiamarle con il loro nome Dai 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 Credo sia arrivando altra gente Quindi conviene curarci in fretta Ah che noia Pio lo spara bende Questo me lo tengo Può tornare sicuramente utile dopo Ma dopo che siamo a fame dei cure No cosa ho fatto Perché sono entrato nella scatola Fammi uscire dalla scatola Sargent Bro 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 Ce la fai tanto sei full shield Dai dai te lo fai te lo fai Ok easy Mamma mia ragazzi Questa ce la siamo a claccia a turni Mi piace sta partita Potrei evitare di farmi clacciare Però shall Intanto ho più kill dell'alleato A mia discolpa posso dire che ho più kill dell'alleato Ok ragazzi Ci siamo trovati Un limone un po' più particolare E più utile A fragola Beh ci sta Eppure a carota Gente lì brother Ci ha visto qua Ci ha visto per forza Se non ci ha visto C'è proprio problemi di vista Ah ma sta altra gente Proprio in giro Proprio tanta Stanno dei team di fronte Ora il mio alleato Si va a buttare a terra No frate dai Non ti voglio clacciare di nuovo Ok dai Evitate morirci Grazie Magari mi fa un piacere Bella frate Sei bello fresco Fresco di fabbrica Eh sorry man Dai 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 GG Questi li facciamo male Li facciamo male 26 11 Ok non troppo male come mi aspettavo Però ci sta Dai Ah Ah safe Mmm bella sta cosa di mantenerceli Bella bella Mi piace L'unico problema è se hanno jump Se hanno jump Qua ci arrivano tranquillamente Ma Non credo sinceramente Altrimenti l'avrebbero già utilizzato E ho finito i proiettili di assalto Mmm bello Diciamo che non era proprio Nei miei piani Finirli ora perlomeno La mano non guasta mai Grazie di farmi cadere E' vero molto utile La tecnica Devo dire la verità L'altro dov'è? Ah sta lì Oh fra 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 Non fa cazzate Perché ti fa cazzate? Sta ancora a fuggire Dai Ok è a posto Ah vada così Non sono Nessun muro è mio Seri? Andiamoci a più Un po' di roba Questa Perché sta buggata così? Ho detto questa eh ovviamente Però perché sta così? Don't know Quasi quasi Ma sapete che dico? Ah Oh Interessante Bro Allora Qui sta il Il cannone Qua vorrei Pigliarlo il cannone Però Cioè Capito? Dovrei Levarmi Tipo lo spara band Per pigliare il cannone Oppure questa Non lo so No vabbè raga Lasciamo sta C'ho già il mio Il mio bellissimo cecchino Che ovviamente lo posso dire Perché non è l'arma Il nome dell'arma reale Mi servono un po' di materiali Però non legno I proiettili del limone Li ho finiti Perché li ho dovuti dare A Amset Pro 6 9 4 2 Che con tutto il bene Però si è piaciuto I miei proiettili Lo voglio bene Perché è forte GG per lui Però Ah non credo che ci serva Molto Fatemi vedere La safe Eh In realtà Ci potrebbe tornare utile Sta safe Allora Slurpy ci siamo arrivati A nuoto Con la barca Diciamo che poi Devo fare meglio Come guidatore De barche Però Ce siamo Non fa niente Raga Mamma mia Raga Stanno a far casino Stanno là Stanno là Che siamo accerchiati Credo questo fosse Abbastanza evidente Ecco No no bro bro Ce l'hai a destra Bro ce l'hai a destra Bro A destra bro Mi piace il cecchino Mi piace il mio cecchino Sì Ripeto ragazzi Posso ovviamente dirlo Perché l'arma Che sto utilizzando Non è effettivamente Quella che ho nominato Devo utilizzare la jump Altrimenti il tizio Si ritrova da solo Con i nemici Che anche se non ho capito Dove sono le andati Forse sono entrati Non ne ho idea Diciamo che ho fatto Una mossa un po' stupida A raggiungerli Senza sapere dove erano Molto più stupida Sapendo che erano qui No è stato colpito Bro Però Stai cazzata Delle buività Oh ma questi giocano solo Solo dei cannone Ma che noia Ma veramente giocano solo dei cannone Ma sono inquietanti Ragazzi Mamma mia Mi fanno via la voce Di topolino Cavolo Quello l'ho lasciato Noshil No 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 Il mio compagno No ragazzi Il mio compagno Ora ci perisce Se non arrivo Veloce 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 Uno Bella Oh cavolo Altra gente No 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 Altra gente Altra gente Ancora no Basta Un attimo Eh no ragazzi Mi servono munizioni Le ho appena finite Io non posso andare avanti così Però Dovrei curare pure il mio amico Bello A parte il farmi saltare in aria È andata piuttosto bene No Oh mamma mia Ma che stiamo combinando Io sto dico Ma è pauroso È pauroso Siamo scandalosi Siamo scandalosi Ma siamo una coppia perfetta Ragazzi Una coppia perfetta Te prego Fai tutte le partite con me No grazie Brucio tutto Sono troppo figo Andiamo Andiamo in safe No raga Stai perdo ora Credo di sbroccar Sono come i cani Raga Come i cani Pronti Ma ci avevo detto Sta attento Mi non capiva Ma devo Glaccia da solo Di nuovo Ah no Sta cosa finisce male Dai fammi cadere Perché non cado Perché non cado È tutto il legno Certo Lo so E poi Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è No c'è Non c'è Madre di Dio, ragazzi, ci siamo riusciti!